ciao a tutti appassionati di storiografia militare bentornati di nuovo nel canale del serenissimo venessia 90 oggi vi voglio parlare di un argomento che alquanto delicato e che molto probabilmente farà incavolare molte persone ma io me ne sbatto e ve lo voglio raccontare lo stesso perché seppure ho fatto una brevissima permanenza in slovenia durante la mia settimana di ferie in slovenia mi hanno insegnato una cosa che la storia militare o la storia in generale per quanto bella o brutta che sia va sempre ricordata e questo me l'ha detto il direttore il curatore del museo della grande guerra del 1915 1918 della città di kobarid in slovenia caporetto la la cittadina di caporetto e proprio dal secondo piano del museo nella saletta dedicata alla storia del novecento della della ridente cittadina montana lungo il corso lungo l'alto corso del fiume isonzo mi è rimasto sono rimasto molto colpito dal che questo paesino ha cambiato praticamente cinque bandiere nazionali nell'arco di un sé in meno in meno di un secolo si può dire e la cosa mi mi ha impersonato parecchio non sarà questo l'argomento di questa sera perché già vi ho fatto il video in diretta dal museo di quante bandiere ha cambiato la cittadina di caporetto l'attuale kobarid in slovenia ma quello che vi volevo far capire un attimo è che questo argomento va a collegarsi a quelli che furono gli ecidi e i massacri delle foibe perpetrati dai partigiani comunisti di tito dell'armata popolare di liberazione jugoslava ecidi che iniziarono la prima ondata nel 1943 dopo la capitolazione delle forze armate italiane a seguito dell'otto settembre 1943 fino a poi al 1947 quando poi inizierà l'esodo giuliano d'almata mi verrà in aiuto cosa questa splendida magnifica fonte scritta dal professor raul pupo storico di eccezione adriatico amarissimo una lunga storia di violenza tengo a precisare che la locuzione adriatico amarissimo fu un termine creato dal poeta gabrile d'annunzio durante l'impresa fiumana ma non ne sono sicuro forse l'avrebbe anche coniato qualche tempo prima ma non sono sicuro casomai mi verrete in aiuto voi quello che voglio parlarvi oggi è soprattutto la duplice oppressione fatta dal regime fascista nelle terre della venezia giulia durante durante il regime durante il ventennio questo soprattutto dopo l'introduzione delle leggi fascistissime a seguito della crisi che seguirà dopo il delito matteotti del 1924 leggi che appunto verranno introdotte nel 1925 26 che porteranno all'italianizzazione scusate forzata delle terre della venezia giulia oppure slavia veneto furlana come la diciamo dalle parti mie ma questo è un altro discorso non voglio non voglio portarvi troppo oltre come poi la stessa italianizzazione seppur con criteri un po diversi va a seguire quella fatta dal da ettore tolomei nelle terre del trentino e dell'alto adige questo già alla fine poi dell'ostilità con ormai il dissolto impero d'austria-ungheria quindi ragazzi la fila strocca è sempre quella portate pazienza aprite le orecchie perché il video potrebbe essere lungo ma molto interessante perché molto spesso quando si parla di foibe dato che poco tempo fa il 10 febbraio fu il giorno del ricordo giorno del ricordo che per il resto di 364 giorni all'anno non gliene fotte mai niente a nessuno però torno a ripetere la storia va sempre ricordata che sia brutta che sia bella in qualsiasi data questa è la mia fila strocca quindi proseguo con quello che ci scrive lo storico raul pupo dal libro adriatico amarissimo dal capitolo terzo la duplice oppressione a riguardo il nazionalismo giuliano non ha espresso un pensatore sistematico come il trentino ettore tolomei autore del programma a suo modo scientifico di italianizzazione dell'alto adige di conseguenza i primi provvedimenti legislativi a danno degli sloveni e dei croati altro non sono che l'estensione alla venezia giulia delle norme originariamente concepite per la provincia di bolzano così nell'aprile del 1927 vengono allargate alla venezia giulia e dalla provincia di zara le disposizioni già emanate nel gennaio dell'anno precedente per il tirolo meridionale in merito alla restituzione in forma italiana dei cognomi di origine italiano latina che dalle autorità austriache erano stati tradotti in altre lingue o deformati con grafia straniera dietro tale espressione appartenente apparentemente un po strana sta una questione a lungo dibattuta dai patrioti italiani nella venezia giulia come in trentino vale a dire l'accusa mossa ai sacerdoti di lingua tedesca slovena e croata cui in epoca asburgica erano affidate nelle realtà rurali le mansioni di ufficiali di stato civile di aver volutamente deformato i cognomi di neobattezzati in modo da farli apparire tedeschi soprattutto nelle valli ladine oppure slavi in istria e dalmazia sì perché l'alto adice di forte tradizione ladina fu austricizzato germanizzato dalle autorità dell'ex impero d'austrangeria sì ragazzi quindi non rompetemi le balle quando dico che i terroristi separatisti tirolesi erano solo degli autentici criminali vabbè ma questo è un altro discorso continuando in molti casi la denuncia non era per nulla infondata dal momento che nelle campagne i sacerdoti erano stati i principali agenti della nazionalizzazione ma il regime ne trae pretesto per un'opera di massiccia italianizzazione dei cognomi che avviene d'ufficio senza accertamenti e senza consultare gli interessati vero è che fin dai primi giorni dell'occupazione militare parecchi cittadini specialmente a trieste si sono presentati alle autorità per chiedere l'italianizzazione dei propri nomi e cognomi proclamando che la passata amministrazione aveva fatto violenza al loro sentire più profondo ma la restituzione in forma massiccia sulla base di prontuari predisposti da apposite commissioni provinciali al fine evidente di mutare su larga scala l'immagine del popolamento nazionale delle regioni di confine quindi prestate attenzione a come il professor pupo ci spiega come venivano italianizzati i cognomi delle terre slave il primo ad esempio circ come si trasformerà dipende perché la scelta di condurre l'operazione su base provinciale può far sì che tre fratelli uno residente a trieste l'altro a gorizia e un altro nella regione istriana diventino rispettivamente circa sirtori e serchi ovviamente i cugini residenti oltre confine nella slovenia manterranno il cognome circ peraltro la riduzione anche di cognomi che italiani in realtà non erano mai stati ne fa smarrire significato ad esempio kmet contadino diventa meti knez conte diventa nesi e supan capovilla diventa soppano lo stesso problema del resto si dà con l'italianizzazione dei toponimi questa era stata avviata già durante il tempo di guerra vista l'assoluta impronunciabilità da dei nomi sloveni da parte dei soldati della truppa italiana ma questo anche questo anche soprattutto dai comandi e i vertici della seconda armata italiana che era schierata lungo il corso dell'alto isonzo e ad esempio il monte merzli ver che sovrasta la città di tolmino poco poco distante da caporetto e tra l'altro monte che fu protagonista di sanguinose battaglie sulla fronte isontina e verrà definito dai comandi della seconda armata del generale capello smerli nel dopoguerra la pratica si è generalizzata per ragioni funzionali mantenendo tuttavia la doppia denominazione che però nel corso degli anni venti è caduta rapidamente in disuso fino a venire formalmente proibita nonostante ciò comporti non poche difficoltà pratiche ad esempio nel recapito della posta pensa te che casino nulla di nuovo verrebbe da dire rispetto alla prassi sempre adottata dallo stato italiano in materia di toscanizzazione dei toponimi originariamente presenti nelle forme dialettali con effetti che spesso gli abitanti locali sembrano ancora oggi visibili nel caso dell'alto adige e della venezia giulia però la patina della lingua dantesca è volta a far sparire ogni traccia di identità nazionali diverse da quella italiana quindi cancellare cancellare su base etnica oltre che politica e che in essa non avrebbero alcun desiderio di sciogliersi può capitare allora che uno dei luoghi simbolo del patriotismo italiano vi faccio un esempio il sacrario militare di re di puglia che molti di voi tranne il sottoscritto purtroppo sono andati a vedere che ai piedi del carso insanguinato dai numerosi combattimenti fatti durante dal 1915 al 1917 evochi l'eco di chissà quali stipi reali del meridione d'italia e nessuno fra i pellegrini che lo visitano immagini mai che vuol dire semplicemente l'anda sterile tradotto dalla dalla lingua slovena sre di poli ovvero rodo polie perdonate il mio pessimo sloveno la riduzione di cognomi è un atto d'imperio ma ad essa si accompagna anche una clausola delezione o almeno così pare infatti anche i portatori di cognomi di origine indubitabilmente straniera possono italianizzarli ma unicamente se lo desiderano in alcuni casi è proprio così vuoi per ragioni patriottiche perché come abbiamo già visto l'origine familiare in molti casi non corrisponde al sentimento nazionale vuoi per facilitare l'inserimento di nuovi cittadini nella società italiana dove i nomi slavi automaticamente malpredispongono i detentori del potere e dove pure alcuni cognomi in realtà innocenti possono suscitare reazioni tipatiche e adesso tenetevi pronti perché c'è da ridere smerdev ad esempio pronuncia smerdeu non suona strano ad orecchie slovene ma provate a rivolgerlo a un carabiniere proveniente dalla calabria che ti chiede le generalità può farti tranquillamente passare un brutto quarto d'ora a me il professor pupo piace da morire perché c'è queste puntate di ironia che comunque non fanno male magari forse non è forse anzi è un umorismo nero però ragazzi insomma ci sta continuando il professor pupo ci spiega in un regime autoritario come quello fascista però il confine tra spontaneità ed imposizione è assai labile di fatto le autorità esercitano pressioni neanche tanto discrete in particolare sui pubblici dipendenti affinché i cittadini mostrino il loro attaccamento alla patria italianizzando in massa i cognomi esotici e molti cittadini pur brontolando si devono piegare così come più in là in tutta italia si piegheranno sempre brontolando a prendere la tessa del partito per non perdere il posto di lavoro ogni regola però alla sua eccezione perché perché i raccomandati come ci fa esempio il professor pupo sulla potentissima famiglia cosulic proprietaria di cantieri navali di monfalcone e finanziatrice generosa delle prime squadri fasciste nella venezia giulia non ha nulla da dimostrare e si tiene il suo cognome con il quale antonio cosulic diventerà nel 1937 dopo la guerra d'etiopia vicepresidente della filmare fulvio suvic volontario redento e deputato nazionalista non ha bisogno di mutare ad esigenza per testimoniare il suo amor di patria e nessuno è in grado di obiettare se desidera conservare il cognome d'origine tanto che diventerà poi sottosegretario alle finanze e poi gli esteri guidando di fatto per alcuni anni la diplomazia italiana nei suoi tentativi di evitare l'ansluz che è la quando appunto la germania di hitler incorporerà l'austria nella germania nell'impero germanico questo nel 1938 appartato dal regime invece rimane ahimè la medaglia d'oro della grande guerra gianni stuparic ma nessuno ardisce chiedergli di mutare il cognome con il quale è diventato eroe e lo stesso per il fratello carlo martire della patria avviata tappeto l'italianizzazione di toponimi e dei cognomi al regime non basta ancora insaziabile questo regime fascista bah vabbè nel marzo 1928 una nuova legge proibisce l'imposizione di nomi ridicoli amorali o tali da oltraggiare l'opinione pubblica come in tutti i grandi inganni anche qui c'è un piccolo fondo di verità per un ragazzino sloveno o croato catapultato in una classe frequentata dai talofoni con un insegnante italianissimo chiamarsi goddam goraz pecca o milizza per non parlare di miroslav significa esporsi a quotidiani lazi se non peggio tuttavia l'intento del legislatore però non è quello di prevenire atti di bullismo seppur comunque siano frequenti bensì di cancellare con un tratto di penna i connotati più evidenti dell'identità aliene di conseguenza agli uffici anagrafici viene imposto non solo di scrivere tutti i nuovi nati con nomi italiani ma anche di cambiare con effetto retroattivo i nomi slavi già presenti lo stesso sono autorizzati a fare gli insegnanti con i registri scolastici avviandomi alla conclusione ragazzi portate ancora un po di pazienza il regime dunque procede a tutta forza per cambiare radicalmente l'immagine delle terre di confine che altro non possono essere che italianissime secondo il regime fascista questo però lo era anche prima durante il i vari governi dell'italia liberale pre fascismo prima della presa al potere del fascismo mussoliniano del 1922 a seguito della marcia su roma quindi che cosa succederà scritte ed insegne slave quindi devono sparire come pure le lapidi funerarie almeno quelle nuove e financo le scritte in sloveno e croato sulle corone mortuarie quanto al parlare slavo è un bel rischio e parecchio anche in sedi pubbliche in sedi pubbliche scusatemi ragazzi in sedi pubbliche è vietatissimo per la strada nelle città italiane è vivamente sconsigliato sono da mettere in conto insulti e botte da orbi la revoca delle licenze alle venditrici di frutta e verdura che tengono le loro bancherelle nelle piazze l'ammunizione da parte di vigili urbani in treno o in tram se sorpresi bisogna scendere al cinema si viene cacciati fuori sul posto di lavoro c'è il pericolo di venire pure licenziati nei paesi ovviamente è più facile basta rivolgersi in italiano alle autorità e badar bene che in privato non ci si faccia ascoltare e che non ci sia qualche orecchio troppo zelante che dite ragazzi vi pare sufficiente e che non vi ho raccontato nemmeno tutto questo il mio video su quanto riguarda il processo di italianizzazione forzata delle terre sia che con una piccola parentesi del dell'alto adige che pure soprattutto dove si incentra maggiormente il libro del professor pupo sulla venezia giulia e quello che combinò appunto il regime fascista su quelle terre per tutto il ventennio fino poi al 1943 e sapete poi comando a finire quindi tra l'altro un'altra cosa che mi diceva l'amico roger jugler la stessa italianizzazione fu fatta nella val d'aosta che i cognomi di origine francese dovevano essere trasformati in lingua italiana e questo successe anche dopo la fine del fascismo in italia quindi anche nell'italia repubblicana della prima repubblica dopo il 1948 quindi anche qua che il fascismo se ne sia veramente andato dall'italia avrei qualcosa da dire riguardo però non voglio essere poemico quindi ragazzi scioccante da un mio punto di vista e poi che sul fatto che magari al giorno d'oggi nelle terre di confine tra austria e slovenia ci siano i toponimi bilingue come appunto grazie allo statuto d'autonomia e l'accordo gruber de gasperi degli anni 50 sulla provincia di bolzano una cosa che ad esempio non mi trovo d'accordo è che ad esempio quando io dalla slovenia rientro in italia o dall'austria rientro in italia la toponomastica bilingue non sia presente e la cosa mi fa un po incazzare perché perché dato che siamo nel ventunesimo secolo parlano tanto di europa unita si riempiono tutti la bocca di pace pace che la pace prosperi in eterno e mi trovo ancora queste cose che ti catapultano semplicemente a inizio del novecento per non dire forse a fine della seconda guerra mondiale vabbè quindi io forse vi avrò già fatto due scatole tante il mio video è giunto alla conclusione se vi è piaciuto like vi prego di iscrivervi al canale che è gratuito non costa nulla commentate fatemi sapere le vostre considerazioni perché ci tengo cosa ne pensate se siete d'accordo o meno con quello che ha scritto il professor pupo ma comunque si adatta di fonti e documenti cosa che tanti non fanno e insomma fatemi sapere io sono a completa disposizione quindi like iscrivetevi commenti se volete potete pure potete pure condividere oggi mi impappino non so che cosa c'è e quindi serenissimo venigrazio di cuore ci vediamo presto al prossimo video buona giornata ragazzi e buon inizio di settimana